Pace bene a tutti i presenti e a quanti sono in collegamento via internet con la cappella della Madonna della Guardia a Suvero. Iniziamo le letture per San Massimiliano Maria Colbe con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, oggi, ventesima domenica del tempo ordinario, la liturgia di oggi, oltre alla liturgia domenicale, ricorda anche San Massimiliano Maria Colbe, martire. E allora iniziamo questo momento di preghiera. Dio Onnipotente, abbi e misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amén. Colletta in descrizione. Letture Dal Libro della Sapienza Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castigli, la loro speranza resta piena di mortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Gli ha salciati come oro del crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di l'olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Preziosa agli occhi del Signore La morte dei Suoi fedeli Insieme Preziosa agli occhi del Signore La morte dei Suoi fedeli Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore Preziosa agli occhi del Signore La morte dei Suoi fedeli Adempire i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo Agli occhi del Signore preziosa la morte dei Suoi fedeli Preziosa agli occhi del Signore Preziosa agli occhi del Signore La morte dei Suoi fedeli Preziosa agli occhi del Signore Preziosa agli occhi del Signore la morte nei suoi fedeli alleluia 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 chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna alleluia 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 dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo dice Gesù ai suoi discepoli questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga perché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo conceda parola del Signore gloria a te o Cristo terminiamo con il canto lodate Dio lodate Dio schiere beate del cielo lodate Dio genti di tutta la terra cantate a lui che l'universo creò somma sapienza e splendore buona serata a tutti